Cosa fa i miei attacchioni? Eh, annuso l'oro per capire se è 18 carati. Ciao! E quindi? Ciao, voglio venderti dei gioielli. Mi vuoi vendere dei gioielli? Sì. Me li fai vedere? Buongiorno. Buongiorno. Niente, io ho visto che ho fatto contoro, tramite TikTok, e non so, ho portato qualche gioiello di famiglia per vedere se riusciamo a raccimolare qualcosa per andare in vacanza. Certo. E tu come ti chiami? Ludovica. Ludovica? E quanti anni hai? Quattro. Quattro? Allora, vediamo subito. Cosa fa i miei attacchioni? Eh, annuso l'oro per capire se è 18 carati? Allora, questo sì, è oro. Anche questo è oro, però dal colore mi sembra un po' più basso, come questo. Quindi questo sì, è oro, però è oro basso. Questi due qua, invece... No, questi sono argento. Vediamo. Adesso controllo l'anello. E chi è libero? Perché controllo l'anello. È per capire se è oro, se è argento, se le pietre sono preziose. In questo caso è argento e presumo siano zirconi. Qui invece, questo è oro 18 carati. È ok. Questo qui invece è 9 carati. Comunque è oro basso. Vediamo. Sì, questo è 9 carati. E questo... Siamo lì. Poi adesso vi farò vedere anche col test dell'acido per avere la certezza di tutto. Allora, intanto questa qui la pesiamo. Questa pesa 9,90 grammi, quindi praticamente 370 euro. Bene. E questo invece, presupponiamo sia 9 carati. 45,60 grammi di 9 carati. 45,62. Non si toccano. Qui invece abbiamo 950 euro. Ok. Beh, buono direi. Sì. Questi niente, gli anelli niente. Adesso vi faccio il test dell'acido. Un acido magico. Partiamo con la catenina. 18. Ed è 18, infatti non si cancella. E adesso 9 carati. Vi faccio vedere che se proviamo con il 18... Uno e anche questo. Allora, i segni restano. Si vede che non è acciaio, non è argento. Però se io adesso provo con l'acido da 18, qui e qui, eccoli qua, si sono cancellati. Oh, ok. Però se io faccio con quello da 8 carati, a fianco, restano. Rimane il segno. Restano il segno. Quindi ho 9 carati. Ad occhio l'avevi detto subito. Sì, ma più che altro, dall'odore si sente che comunque non è acciaio, non è ferro. Però si vede dal colore. Infatti questa che è 18 è più accesa. Questo è un po' più scuro. Ho capito. Siamo sopra il limite di legge, quindi bonifico istantaneo e carta d'entità tessera sanitaria. D'accordo. Ok.